L'Azzurro abbraccia il capoluogo di regione, il presidente della FIGC Gabriele Gravina nella sua visita all'Aquila, la Lega Nazionale di Lettanti lo aveva annunciato e così la nazionale azzurra under 18 di calcio sarà impegnata nel capoluogo giovedì e sabato in una doppia sfida con i parietà francesi, che avrà come scenario il bellissimo stadio Gran Sasso Italo a Concia, è la prima volta che lo stadio aquilano ospita una nazionale. Per la città è una grande vetrina al di là delle partite di calcio, soprattutto per il significato in quella che è stata scelta come città europea dello sport 2022, ma c'è anche un altro aspetto importante, la presenza della nazionale francese testimonia ancora una volta la solidarietà del popolo alla città e ci sarà anche una visita alla chiesa delle anime sante, la cui ricostruzione è stata finanziata dalla Francia, come ha ricordato il presidente del comitato Ezio Memmo. Ci sarà venerdì una visita alla chiesa da parte delle nazionali, la presenza degli azzurrini sarà una festa perché prevede anche delle attività socioculturali in città. Per noi oggi sicuramente è un grandissimo risultato riabbracciare, anche perché l'Abruzzo già è nella stessa regione, ha avuto già nazionali e questo intanto per l'Aquila sicuramente è un ritorno importante, soprattutto perché poi al di là, come dicevamo, dell'aspetto sportivo, ci fa moltissimo piacere che la stessa Francia nell'accogliere l'invito ha anche sottolineato quello che è un aspetto solidale per la città dell'Aquila, perché ha contribuito anche nella ricostruzione di alcuni siti all'interno della stessa città e quindi per questo per noi ha un valore ancora maggiore di solidarietà ed è quello che il calcio sta rappresentare e rappresenta nei momenti importanti. La presenza di questi amichevoli internazionali sarà anche un banco di prova per testare gli impianti sportivi cittadini. Ricordiamo che l'Aquila nel prossimo anno sarà capitale europea dello sport e anche in vista di appuntamenti, anche questi riguardanti la nazionale, nazionali maggiori rispetto all'Under 18, questi come se fossero dei test match in vista del prossimo anno. Quindi un modo per prendere confidenza con la nazionale, un ringraziamento certamente alla federazione, al presidente Gravina, al presidente Concezio Memmo, a persone che stanno dimostrando una vicinanza al mio assessorato, all'assessorato dello sport, dando una grande disponibilità in termini di performance per quanto riguarda la possibilità di eventi così importanti e così impattanti di poter essere calati sul territorio. In conferenza stampa anche il tecnico della nazionale italiana Under 18, Daniele Franceschini, con una rappresentanza della squadra. Il tecnico ha un forte legame con la città dell'Aquila perché la moglie è di Cagnano Amiterno, comune dell'Aquilano.